La caccia, mi stai toccando un tasto affettuoso e anche no, io ho ucciso il primo camosso a nove anni, forse di più, perché sono passati 50 anni, 59, 50 anni, ma eri obbligato ad andare a caccia perché era la risorsa di carne, di proteine, per cui si andava a caccia per mangiare, soprattutto per mangiare, però c'era un rispetto assoluto della caccia, della femmina, guai chi uccideva una femmina era segnato a vita, del camosso o del capriolo o del cervo si mangiava persino le unghie e tra l'altro il pesto più buono, il filetto, al prete e al medico, di costoro si poteva aver bisogno, quindi una parte allora, il resto si cucinava oppure si salava, lo si metteva via nei bidoni di legno per l'inverno, è stato fondamentale la caccia fino agli anni 60 per sopravvivere, è chiaro che se ti portano a caccia da bambino a otto, nove anni, sei anni, questa pratica ti entra nel DNA, diventa una cosa tua. Poi ho ammassato camosso, caprioli, gali, forcelli, cedroni, ma il primo camosso a nove anni, non ricordo, dieci, fui costretto a bere il sangue, perché è un rito, è un'iniziazione, coloro che uccidono il primo camosso, una volta sventrato, mio padre mi obbligò a bere il sangue, a me faceva schifo, quindi mi sporcai solo il naso perché devi entrare nel costato aperto e in fondo rimane una piccola, fui costretto a bere, ma mi sporcai solo il naso, ma mio padre capì e mi disse prendilo in mano, voglio vederti bere, allora cominciai a bere il vecchio palano, adesso lo bevo tutto, ho detto il vecchio palano, no canai, basta così, è una roba orrenda a bere il sangue, però devi farlo, poi io a mia volta con altri cacciatori l'ho fatto bere, perché si imparano anche le cattive azioni, allora io a mia volta, mi ricordo che lo feci bere a un cacciatore molto più vecchio di me, di età, però era il primo che ammassava e quindi io, ragazzino diciottenne, feci bere il sangue a quest'uomo che ne aveva già 40, perché era il primo camoscio che uccideva, aveva scoperto la caccia, sono robe tribali però dovevi farlo, anche oggi. Tu hai portato i tuoi figli? Io no, perché non c'erano più bisogno di carne o di andare a caccia, però a me è rimasto questo DNA della caccia, per cui non ci vado più perché non ho più la fame di un tempo, ma quando arriva primavera e sento cantare ai gali forcelli e mi trovassi in una radura con lo schioppo in mano, sono sicuro che sparerei perché la caccia ce l'hai nel sangue. A questo momento vorrei, potrei tornare a me, c'è chi hai mettuto a panni e ha le finite a noi. Vorrei, vei, manco il robe e tutto il ben che non ti hai borgiato. Vorrei, sentami d'ogni a cui che mi ha lasciato. E' il braconaggio? Ma il braconaggio è una roba seria perché allora se il cacciatore con licenza, e infatti io sono sempre stato a favore delle figure epiche dei braconieri, il cacciatore è abilitato a cacciare con la licenza, tramite un cartellino la licenza, il braconiere è in lotta con i guardi a caccia, con i forestali, con se stesso, non può far vedere la preda, non può vantare meriti, è un uomo, è una martora all'ombra. Il braconiere è una figura storica, per farti un esempio, quando io chiesi al mio amico Celio, grande braconiere e bevitore, una figura mitica dei miei anni giovanili, ma barba gli ho detto facciamoci la licenza. E mi ha guardato e mi ha detto ma allora che gusto c'è? Ecco la figura del braconiere, il braconiere vuole sfidare non solo la preda, ma anche i tutori dell'ordine e quindi fa una vita infame il braconiere. Guarda le polemiche e le critiche escono sempre da gente a stomaco pieno, perché sono d'accordo che oggi la caccia di oggi non la approvo, perché sparano dai fuoristrada con fucili che tirano a un chilometro di distanza, pigliano solo il trofeo, buttano via la carne, questa caccia non mi piace, ma se qualcuno ha creato la natura con gli alberi, gli animali, l'acqua, è perché l'uomo prenda da essa, dalla natura, quel che gli serve a campare con un metodo. Perché non si discute mai della pesca, dei pesci, i pescatori sportivi fanno gare, pigliano le trofe e lì nessuno dice niente. Non sono a favore di questa caccia moderna perché la gente s'annoia, soprattutto alcune categorie di gente benestante, ma non sono neanche contro la caccia. A me la caccia ha salvato la vita, ci ha dato da mangiare, per cui prelevare il giusto. Per esempio qui adesso più di 3400 camosi per non essere stati selezionati e quindi sottratto dei numeri congrui dai branchi, hanno preso la rogna e stanno morendo tutti. Allora io mi dico non era meglio prelevarne qualcuno, ma chi mette in moto la sua ragione dice ma lascia che muoiano, poi fanno gli anticorpi, vincono la malattia e restano quelli sani. Sì va bene anche questo, ma allora mi chiedono non bisogna mangiare più nulla perché un esperimento di scienziati giapponesi hanno dimostrato che strappando un piede di insalata li hanno messo lì e questa vibra, sente qualcosa, allora non bisogna più mangiare neanche insalata. Però sono per una caccia di bisogno, nei popoli primitivi vanno a caccia. Perché non dicono niente ai popoli selvaggi che vivono ancora di caccia come certe tribù dell'Amazzonia? Non sono però, non vedo bene questa caccia che sparano un chilometro dai suv, quello no. La caccia insomma è come coltivare il campo, il pane, il mangiare. Come andavate a caccia? Andavamo a pigliare le cacce, io ho 60 anni quasi, ma ricordo camminate incredibili giorni e giorni per andare a pigliare un camosso in Valmontina alla fine del mondo. Quando era primavera con le ciaspole, allora non erano di moda come oggi che vanno con le ciaspole sulla neve dura oppure sulla neve battuta. Siamo degli imitatori, dei simiottatori di mode. Camminavamo con le ciaspe e guai parlare perché i camossi ti sentono, guai parlare, guai dire niente. E poi si prendevano queste bestie e prima di tutto si sventravano per lasciare lì l'interiore che pesavano, salvare assolutamente il fegato, il cuore e i polmoni che erano i primi che si mangiavano già in posto. Avevamo la pignata, si coceva sul fuoco, si arrostivano il fegato perché quello va male subito. Se era inverno, come si deve cacciare il camosso in novembre, dicembre, gennaio, quando non ce la facevamo a portarlo a casa su perché potevi uccidere cinque, eravamo solo in tre, allora si seppellivano in una valanga o nella neve e tornavamo giorni dopo a recuperare i guai e toccava sempre ai giovani perché mio padre, i vecchi bracconieri, diceva ma vai tu che hai gambe buone. Sulla cengia della palassa mio padre ferì una camoscina perché le bimate si chiamano, quelle giovani, avevamo fame quindi sparò anche una femmina, robe da non fare mai. Viaggiamo tutta la notte per trovare la ferita e seguendo le tracce, era novembre, un freddo boia e quando arrivamo sotto la cengia della palassa la trovò lì viva, aveva una gamba quasi ammaciullata, una roba orrende a dire, e io gli dissi a mio padre, lì che ansimava, sembrava una bambina la testa, di una dolcezza, spara lì, ho detto a mio padre, non vedi che sta male, ha mirato un calcio in culo, una cartuccia costa, quando andrai a lavorare e capirai non sparerai neanche tu a sprecare una cartuccia e mi fa e adesso voltati, allora mi voltai e lo vedi estrarre il coltello serramanico storto, la rocchetta, ma cosa fa? Intanto feci finta però mi girai e guardai e vedi che tagliava il collo questa camoscina e senti come un soffio, come un alito di liberazione, questa camoscina che diceva finalmente mi avete liberato, guarda una roba, è anche lì ho capito, però poi sai, continui ma quella scena lì me la porterò, lui come niente fosse a tagliare e liberò sto fiato, come per dire finalmente ho finito di patire, come per ringraziarci, ma ci guardava con ste lacrime, una roba, non la pratico più perché non ho più necessità di carne per vivere, ma non posso essere contro la caccia perché è una cosa che ho nel sangue, è come rinegare un figlio.